Nella vita mi occupo di turismo, quello di cui è appena annunciato è una cosa molto interessante. Il nostro problema in questo momento non sono tanto le guide turistiche che arrivano dall'estero, sì lo sono, ma è relativo, sono gli abusivi, cioè quelli che proprio non hanno nessun cartellino. Dico di più, è un dato allarmante, l'Italia si sta allontanando sempre di più dall'interesse da parte dei tour operatori e dei turisti stranieri, perché da un'indagine che è stata fatta dal nostro settore del turismo, il 70% dei turisti che sono stati intervistati proprio a Roma, ahimè ma penso che tutta Italia sia così, dichiara di non voler più tornare in Italia e di questo 70% quando gli è stata chiesta le motivazioni, il 90% per i raggiri e le truffe. Ci fermiamo qui, questo mi pare che fotografi meglio di molte parole e molti convegni sul turismo alla situazione. Capita spesso che tour operatori improvvisati facciano della pubblicità ingannevole, io da esperto del settore do un consiglio, affidatevi a un'agenzia di viaggio seria, un agente di viaggio serio sa guardando il catalogo, sa dirvi se quel tour operator vi sta ingannando o meno, io faccio sempre questo ragionamento. Se posso essere un po' fetente, premessa, indirizzerebbe i suoi clienti in Sardegna o in Puglia? In Italia. In Italia.